Roncade. Otto studenti di scuola media, ragazzini di appena 12 e 13 anni, tutti residenti a Roncade e di nazionalità italiana, sono stati segnalati al Tribunale dei minori dai carabinieri per l'imbrattamento dell'abitazione di un agente immobiliare veneziano a San Cipriano. L'episodio risale al 10 novembre. Non trattandosi di soggetti imputabili, avendo meno di 14 anni, spetterà al Tribunale decidere se prendere eventuali provvedimenti nei confronti loro e delle famiglie. identificati dai militari dell'arma, i ragazzini hanno ammesso le proprie responsabilità di fronte ai genitori, ma non sono stati in grado di spiegare il motivo che li ha spinti a compiere il raid.